In casa PD tiene banco la questione sanità. Totaro contesta il metodo del manager Asrem sui tagli ai servizi nelle zone interne. Frattura si augura di evitare il commissariamento e di poter continuare a gestire il riordino della sanità regionale. A Termoli c'è preoccupazione per le sorti dello zuccherificio. Cresce la paura per lo smantellamento del settore sia in basso Molise che in tutto il paese. I beticoltori chiedono con urgenza un tavolo di crisi al ministro Martina. Il Campobasso è tornato alla vittoria battendo per 2 a 0 l'Agnonese nel derby molisano grazie alle reti di Lazzarini e Todino. Ancora male il Termoli travolto in casa dalla Iesina per 4 a 0. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Molise TV. Lo avete sentito dai titoli. In apertura c'è la questione sanità. Infatti in casa PD tiene banco proprio questo argomento. Totaro contesta il metodo del manager Asrem sui tagli ai servizi nelle zone interne. Intanto in attesa dell'approvazione del tanto discusso atto aziendale da parte della regione Frattura si augura di evitare il commissariamento e di poter continuare a gestire il riordino della sanità regionale. Vediamo il servizio. Fa discutere la sanità in casa PD a suscitare dubbi e polemiche. Questa volta l'atto aziendale firmato dal direttore generale Pirazzoli. Re o addetta del capogruppo Totaro di mirare esclusivamente a logiche di bilancio tralasciando così i bisogni della gente. Per l'esponente del PD sono eccessivi tagli fatti nelle zone interne del Molise e proprio per questo chiede subito una legge sul riordino. Certo è che l'atto aziendale al momento è solo una bozza inviata ai sindacati al commissario Frattura, con quest'ultimo che punta a ragionare per obiettivi prefissati e a stemperare gli animi. Innanzitutto è l'atto aziendale approvato dal direttore generale che deve essere poi approvato e validato dalla Regione. Abbiamo aperto il contenzioso con il tavolo tecnico, il Ministero dell'Economia continua a battersi per il commissariamento del sottoscritto. Mi sembra di poter dire che la salute assume un atteggiamento diverso visto che non si può addebitare a questo Governo le norme di Savanzo ereditato. Stiamo provando a riorganizzare in maniera puntuale dal domicilio alla rete territoriale, a quella ospedaliera. Certo, un po' di tempo ci vuole. I segnali anche meramente ragioneristici ci sono. Mi auguro che prevalga il buonsenso per cui possa continuare questo Governo regionale a guidare il riassetto sanitario di questa Regione. Dunque, nonostante le grandi problematiche emerse sul tema sanità in questi mesi, Frattura predica calma e si augura di poter continuare a gestire il riordino della sanità molisana, scongiurando il commissariamento fortemente voluto da parte del Ministero dell'Economia. Restiamo in ambito sanità. In attesa dell'esito dell'autopsia sul cadavere di Rosa Zara, non cessano le segnalazioni per presunti malori collegati all'assunzione del vaccino anti-influenzale Fluad. Spunta infatti un quarto caso inviato dal Santimotio di Termoli al Ministero della Salute. Si tratta di un pensionato di circa 80 anni, rivoltosi al pronto soccorso a distanza di qualche giorno dalla somministrazione del farmaco. I medici dell'ospedale basso molisano in via precauzionale hanno effettuato la quarta comunicazione. L'uomo, dopo essere stato sottoposto a una serie di cure, non desta preoccupazioni ed è stato dismesso. Parliamo adesso dello zuccherificio. A Termoli c'è preoccupazioni per le sorti dello zuccherificio. Infatti cresce la paura per lo smantellamento del settore sia in basso molise che in tutto il paese. Intanto i bieticoltori chiedono con urgenza un tavolo di crisi al Ministro Martina. C'è preoccupazione allo zuccherificio del Molise dove i bieticoltori chiedono certezze per la prossima campagna saccarifera e per il futuro del comparto sempre più a rischio scomparsa in Italia. Infatti ormai anche il colosso della Sadam, oltre l'impianto saccarifero molisano, sembra avere i giorni contati. Proprio per questo i bieticoltori hanno chiesto un tavolo tecnico con il Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina. Abbiamo consegnato e consegneremo un documento fatto dalla Confederazione Generale Bieticoltori Italiani, immiato al Ministro Martina dell'Agricoltura e al Ministro Guidi dello Sviluppo Economico per far sì che ci sia un tavolo di crisi urgente perché rischia di chiudere Termoli, rischia di chiudere anche la Sadam. L'Italia rimane qua senza zuccheri. È uno scandalo, ci appelliamo alla politica per usare i metodi non convenzionali, per salvare Termoli e anche la Sadam. Diverse le situazioni che al momento destano dubbi tra i bieticoltori, da quelle delle semine a quelle sulle quote zucchero. Per quanto riguarda il contatto con la NUCO ci sono situazioni in atto, non abbiamo notizie di poter continuare a seminare anche un minimo, ci sono problemi con la suzuccher, sul fitto delle quote e ci sono problemi anche riferiti al discorso che c'è un nuovo acquirente, un possibile acquirente. Speriamo bene, noi non vogliamo chiudere la bieticoltura, vogliamo andare avanti con lo zuccherificio e con i bieticoltori. Intanto i vertici regionali fanno sapere di puntare su una riorganizzazione degli asset a livello territoriale con l'aspicio che il manager Fusco ritiri le proprie dimissioni dalla NUCO. Ora il prossimo obiettivo resta quello di puntare su una diversificazione della produzione e di stringere il prima possibile un accordo con la suzuccher sulle quote zucchero relative alla prossima campagna bieticola. E restiamo in Basso Molise dove è scattata questa mattina un'operazione dei carabinieri della compagnia di Termoli con il supporto del comando provinciale dell'arma e coordinata dalla procura di Larino. A finire al centro dell'indagine un'organizzazione che perpetrava truffe attraverso la clonazione di sistemi elettronici di macchinette e distributori automatici. Un blitz che al momento parrebbe aver portato all'arresto di oltre 10 persone sull'intero territorio regionale. Maggiori dettagli si avranno domani quando sarà prevista con ogni probabilità una conferenza stampa delle forze dell'ordine che hanno svolto la maxi operazione. Il calendario dei misteri giunto alla diciottesima edizione. Quest'anno è stato realizzato da 13 illustri artisti molisani. Libertà esplosiva e forte legame con la tradizione e le peculiarità del calendario 2015. Stampato in 3.000 copie numerate il calendario dei misteri 2015 quest'anno ha beneficiato del prezioso lavoro artistico di 13 pittori molisani che hanno rappresentato gli ingegni del di zino da differenti punti di vista. Per loro una tela bianca formato 80% con l'unico vincolo di realizzare un dipinto che rappresentasse il mistero assegnato a ciascuno per estrazione. Assoluta libertà espressiva unita ad un forte legame con la più importante tradizione campobassana sono le peculiarità della dodicesima edizione del calendario dei misteri. Gli artisti coinvolti hanno quindi dato vita ad opere di tipologia molto diversa realizzate con tecniche differenti che coesistono armoniosamente in un'interessante ed inconsueta raccolta. Le 13 opere realizzate resteranno patrimonio dell'associazione misteri e tradizioni e saranno collocate in mostra permanente al museo dei misteri nella sala degli ingegni Cosmo Teberino. La copertina del calendario è dedicata all'artista Antonio Pettinicchi recentemente scomparso e riproduce grazie alla cortese concessione dei familiari l'opera che l'artista Campobassano ha realizzato per il manifesto ufficiale della processione dei misteri del 1994. Non solo pittura ma anche fotografia. La realizzazione del calendario non sarebbe stata possibile senza gli scatti di Francesco Stanzione e di Roberto De Renzis. Il calendario può essere acquistato con un piccolo contributo di 3 euro al museo dei misteri in via Trento a Campobasso. Inoltre lo si potrà scaricare dal sito ufficiale dell'associazione www.misterietradizioni.com E parliamo ora di Biomasse. L'azienda Civitas amministrata da Luca Di Domenico ha impugnato la revoca dopo il dietrofront della regione chiedendo i danni per un ammontare di circa 8,5 milioni di euro. L'impresa dunque ha intenzione di trascinare in tribunale la regione molise per avere così un ingente risarcimento economico. Il ricorso è pronto da giorni e a breve verrà notificato. Questo quanto hanno fatto sapere i vertici dell'azienda che ha varato il ricorso per annullare la revoca dell'ente regionale molisano. Ci spostiamo al comune di Campobasso per parlare del programma per le prossime e imminenti festività natalizie al centro di polemiche all'interno di Palazzo San Giorgio. Sono sereno operato con correttezza e trasparenza le parole dell'assessore Colagiovanni. Vediamo il servizio. Le polemiche sulle eminenti festività natalizie a Campobasso sembrerebbero ancora non del tutto sopite. La settimana appena conclusa infatti è stata caratterizzata da dure note e botte risposta tra l'assessore Salvatore Colagiovanni e il gruppo di democrazia popolare a Palazzo San Giorgio che in contrapposizione a quanto pensato dalla Giunta ha presentato una propria proposta. Il consigliere Colagiovanni però tira dritto e illustra le iniziative in programma dicendosi sereno per come operato finora in termini di correttezza e trasparenza. Abbiamo diversi eventi culturali. Avremo, grazie al consigliere Colarusso e al consigliere Durante, eventi a Savoia, eventi all'Exegilla. Avremo due spettacoli grandissimi di Adriano Ferraiolo che è da dei 113 anni che è a Campobasso col suo operato. Avremo una street band per il 24 su volontà del collega Durante. Avremo diverse nel settore sociale. Sotto al Comune verrà fatto un albero ecosoledale dal liceo artistico. Stiamo cercando di poter impegnare più persone possibili per far capire che questo Natale debba avere in questo momento buio economico un qualcosa in più. Logicamente poi chi fa qualcosa rischia di sbagliare. La mia serenità è che tutto ciò che fa è fatto con correttezza, trasparente e soprattutto con onestà e sfido chiunque a dire il contrario. Quanto alle luminari, ha poi precisato l'assessore, l'intento è quello di estenderle nei prossimi anni anche ad altre zone della città e fare modo che fungano da attrattiva e da volano per l'economia e per i tanti commercianti che pagano gli effetti rovinosi di una crisi che purtroppo non accenna ad allentare la propria presa. Niente indennità di carica per aiutare chi è in difficoltà. Questa è l'iniziativa portata avanti dall'assessore comunale di Frosolone Enzo Pallante. Una scelta in linea con il periodo difficile che permetterà di aiutare le famiglie meno abbienti grazie alla creazione di un fondo ad hoc e che avrà un importo pari a 1900 euro. Il fondo in questione sarà poi corrisposto ai cittadini in difficoltà tramite il parroco del paese Don Angelo Ricci. Parliamo ora del periodico semestrale Quaderni di Scienza e Scienziati Molisani, edito da Union Camere Molise che ha come fine quello di diffondere la cultura scientifica e far conoscere gli uomini di scienza del Molise. All'auditorium della Fondazione Molise Cultura è stato presentato il doppio numero speciale, ultimo della serie attuale. Ha seguito per noi l'evento il collega Gennaro Ventresca. La serata è impegnativa, di quelle con l'abito buono. Infatti si parla di quaderni di scienza e scienziati molisani. Sì, avete capito benissimo, stiamo parlando di scienziati all'ex gil di Campobasso. Infatti Carlo Dilisio ha messo insieme un crogiolo di uomini importanti che operano su tutto il territorio nazionale e internazionale e una parte di essi li ha portati qui per il rilancio della sua rivista che si chiama Quaderni di Scienza e Scienziati Molisani. Pensate che questa rivista ha editato già 17 numeri e questa volta ha un numero doppio per il suo rilancio. L'opportunità è veramente unica, irripetibile, perché mette insieme, pensate, 12 scienziati che hanno parlato, hanno contribuito con il loro intelletto, con la loro dialettica, con la loro molisanità a mettere insieme una serata di grandissimo livello culturale e scientifico. È il caso di ricordare praticamente che ci sono anche i giovani e questa è una cosa veramente da sottolineare e da rimarcare. Quindi come scienziati uno immagina di trovarsi di fronte, signori, con la barba lunga e con lo sguardo che volge al cielo in maniera disinteressata delle cose terrene e invece troviamo anche i giovani. Si diceva che l'appuntamento è da considerarsi unico, irripetibile, forse con un'unica defiance, quella di aver voluto mettere insieme veramente tanta carne a cuocere che ha obbligato il conduttore della serata un po' a correre e a non farci gustare fino in fondo gli interventi perfetti, meravigliosi e da replicare possibilmente che si sono avuti con gli ospiti e con i contributi scientifici che poi sono gli stessi che troverete sui quaderni di scienza e scienzi molisani che Carlo Delisio ci ha messo in tasca. Tutto pronto ad Agnone per la tradizionale indocciata, un rito che appartiene al patrimonio culturale del Molise e che ogni stagione viene riproposto con grande successo. Quest'anno la Proloco del Comune Alto Molisano d'Intesa con il Comune, la Regione Molise e provincia di Sernia ha deciso di dedicare l'indocciata a San Giovanni Paolo II alla presenza di imminenza e altri prelati della città del Vaticano per rievocare lo straordinario e irripetibile storico evento del 1996, allorquando la manifestazione venne benedetta dalla loro pontefice di venerata memoria. La manifestazione, come da tradizione, verrà riproposta anche il prossimo 24 dicembre 2014 alle ore 18. Apriamo la pagina sportiva. Vediamo ora nel dettaglio i risultati della quattordicesima giornata del campionato di Serie D Girone F e la relativa classifica. Alma Juventus-Fano-San Nicolò 2-0, Castelfidardo-Chieti 1-0, Celano-Fermana 0-2, Giulianova-Vispesaro 1-0, Civitanovese-Amiternina 4-1, Olimpiagnonese-Campobasso 0-2, Recanatese-Maceratese 1-1, San Benetese-Matelica 2-0, Termoli-Iesina 0-4. Questa è la classifica. Maceratese-Alcomanto con 32 punti, Civitanovese 30, Alma Juventus-Fano 28, San Benetese 27, Campobasso 26, Matelica 25, Iesina 22, Chieti 20, Giulianova 19, San Nicolò e Amiternina 18, Fermana 15, Recanatese 14, Castelfidardo 13, Olimpiagnonese 10, Vispesaro 9, Chiudono-Celano e Termoli con 8 punti. Parliamo adesso del Campobasso. Torno alla vittoria ai lupi di Mister Farina. Infatti la squadra ha superato per 2-0 l'Agnonese in una partita molto combattuta. A segno per il rosso-blu, Lazzarini nel primo tempo e Todino nella ripresa. Tutto esaurito al Civitelle di Agnone nella 14esima giornata di campionato dove va in scena il derby molisano tra Granata e Campobasso. Una partita dal sapore particolare con il pubblico delle grandi occasioni. Con le immagini passiamo alla cronaca del match. Parte forte l'Agnonese che al primo minuto ci prova con Carpentino. Tutto facile per il portiere campobassano. Al decimo arriva il primo sussulto del Campobasso con Todino. Normale amministrazione per il portiere Granata. Al dodicesimo torna a farsi vedere l'Agnonese con una conclusione di Di Lullo. Para senza problemi il portiere rosso-blu. Al ventunesimo il Campobasso va in vantaggio con Lazzarini. Tra le polemiche della squadra di casa che reclama per un fallo di mano. Al ventiseiesimo l'Agnonese prova a scuotersi con un gran tiro di maresca. Tutto facile per l'estremo difensore campobassano. Da qui a fine primo tempo la partita non regalerà grandi emozioni. Nella ripresa è Di Gennaro a provarci al cinquantasettesimo. Bravo ancora una volta il portiere di casa. La risposta Granata arriva al sessantacinquesimo con Cantoro. Ma non desta grandi preoccupazioni il suo tiro. Tre minuti dopo ancora Granata a provarci. Questa volta con un pericolosissimo tiro di Petrone che colpisce il palo. Al settantesimo torna a farsi vedere il Campobasso con una conclusione di Minadeo. Ancora Lupi in avanti al settantacinquesimo con Todino. Pare il portiere di casa senza problemi. All'ottantesimo Rolli impegna severamente il portiere campobassano con un gran tiro. Sul capovolgimento di fronte però i Lupi raddoppiano con Todino che di sinistro piazza la stoccata vincente e fa 2-0. Nel finale di gara al novantesimo l'ultimo brivido porta la firma di Di Lullo. Ma la sua conclusione viene parata senza problemi. Termina 2-0 il derby tra Campobasso e Agnonese. I Lupi tornano così alla vittoria dopo la sconfitta con il Fano. E si rilanciano nelle posizioni che contano della classifica. I Granata invece dopo una serie di risultati utili vengono fermati in casa dai Cugini Rosso-Blu. Ancora una sconfitta per il Termoli Calcio che questa volta in casa si è reso per 4-0 contro una spietata Iesina. Tutto troppo facile per gli ospiti che hanno battuto una squadra sempre più in grave difficoltà. Nella quattordicesima giornata di andata del campionato di Serie D il Termoli ospita la temibile Iesina. Per i giallorossi è importante tornare alla vittoria per smuovere la classifica dopo un novembre da dimenticare. Partono bene gli ospiti che al quinto vanno vicino al gol con il numero 7 Trudo che da posizione favorevole colpisce il palo. Sulla respinta arriva il numero 9 Traini ma Natali è strepitoso ad opporsi sulla conclusione ravvicinata. All'ottavo ancora Marchigiani a provarci con il numero 8 Frulla ma Natali para senza problemi la pregevole girata. Il Termoli si sveglia al diciottesimo con Santoro, la conclusione viene deviata in angolo. Al ventiduesimo il Termoli va in gol col Santoro servito sul filo del fuorigioco ma l'arbitro annulla perché il numero 9 era nettamente avanti alla linea difensiva della Iesina al momento del passaggio di Fulvio. Al ventiseiesimo crolla però il fortino del Termoli. Errore a centrocampo di Caprioli, la palla arriva al numero 7 Trudo che in diagonale batte Natali 1-0 per gli ospiti. Al quarantesimo il Termoli cerca di rispondere con un colpo di testa di Dispoto su punizione di Caprioli, palla alta sopra la traversa. Il primo tempo termina qua. Nella ripresa il Termoli vuole acciuffare il pari e al diciannovesimo va vicino al gol con Fulvio dopo un'azione individuale strepitosa di Santoro però la palla finisce alta sopra la traversa. Passano due minuti e la Iesina raddoppia con il neo entrato Pierandrei, abile a girare in rete la respinta corta della difesa del Termoli. Il Termoli va in bambole, al ventitresimo prende il terzo gol che porta la firma di Frulla lasciato libero al centro dell'area. I giallorossi si innervosiscono e perdono la testa. Al minuto 34 viene spulso Gagliano per doppio giallo, due minuti dopo tocca a Fulvio con la squadra che resta in nove. Al trentanovesimo la Iesina segna il quarto gol ma viene annullato per fuorigioco di Tittarelli. Due minuti dopo però lo stesso numero 17 segna la quarta rete. Tra le polemiche giallorosse poiché il pallone non sembra varcare la linea di porta dopo aver preso la traversa. La partita termina qua bene la Iesina che strapazza i giovani e i nesperti giallorossi per 4-0. Male il Termoli sempre più fanalino di coda del campionato. Vediamo ora nel dettaglio i risultati della tredicesima giornata del campionato di eccellenza e la relativa classifica. Casalnuovo-Monterotaro-Venafro 1-4 Vairano-Montaquila 2-2 Riccia-Fornelli 4-3 Roccaravindola-Cliterrina 3-0 Roseto-Vasto-Girardi 1-4 Sandeliana-Gambatesa 2-3 Sesto Campano-Calcio-Dauna 0-0 Treppini-Sporting-Matese-Isernia 0-1 Vediamo la classifica. Calcio-Dauna 35 Isernia 34 Vasto-Girardi 29 Vairano 23 Roccaravindola e Sesto Campano 22 Venafro 20 Treppini-Sporting-Matese 19 18 Riccia-Gambatesa Montaquila 14 Casalnuo-Monterotaro a 12 Fornelli a 11 Cliternina a 9 Santeliana a 6 Roseto a 4 E infine vediamo nel dettaglio i risultati della tredicesima giornata del campionato di promozione e la relativa classifica. Alife-Torre-Magliano 2-1 Petacciato-Vinchiaturo 0-2 Campo di Pietra-Montenero 0-0 Castelmauro-Real-Sanmartino 4-2 Cerce-Maggiore-Frentania 3-2 Real-Prata-Macchia 0-3 Ripalimosani-Toro 1-1 Spinete-Pietra-Monte-Corvino 0-2 Questa è la classifica in testa Macchia-Pietra-Monte-Corvino e Campo di Pietra a 26 punti Spinete a 24 Montenero a 23 Alife a 21 Real-Sanmartino e Petacciato a 20 Real-Prata a 18 Castelmauro a 16 Cerce-Maggiore a 15 Vinchiaturo a 13 Torre-Magliano e Frentania a 12 Toro a 11 Ripalimosani a 6 Bene, con lo sport termina il nostro TG Grazie per averci seguito Io vi lascio al Medio Arrivederci Il meteo è offerto da Previsioni del tempo Per martedì 9 dicembre 2014 Una circolazione di bassa pressione si scava sui bacini occidentali del paese Determinando così un ulteriore aumento delle nubi con fenomeni nevosi in arrivo su Molise Temperature minime in aumento con estremi di 10 gradi Massime stabili con punte di 12 gradi Venti settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali Vediamo nel dettaglio le temperature Campobasso minima 3 gradi massima 6 Isernia minima 4 massima 11 Termoli minima 10 gradi massima 12 Il meteo è stato offerto da Il meteo è stato offerto da Il meteo è stato offerto da